Configuriamo una VPN site con MikroTik. Qui abbiamo un ufficio in qualsiasi regione in Italia, a sinistra, e un altro ufficio a destra in qualsiasi altra regione d'Italia o del mondo. E noi vogliamo condividere la rete del computer di sinistra con quello di destra e viceversa. Qui abbiamo la nostra console, la nostra GUI di MikroTik del computer di sinistra e qui abbiamo la nostra GUI del MikroTik di destra. Andiamo a configurare prima quello di sinistra e poi quello di destra. Allora, da IP, IPsec. Per prima cosa andiamo a configurare il profilo, cliccando su App Profile. Qui scriviamo ufficio di destra, per esempio. Algoritmo, io sconsiglio vivamente SCA1 perché non è molto robusto, almeno SCA256. Poi vado a togliere tutti questi tic qui e lascio soltanto SCAES256. Tolgo questo MOD1024 e lascio solo 2048. E premo Applica e OK. A questo punto andiamo a configurare il PIR. Con più, qui lo chiamiamo per esempio PIR Ufficio di destra. Qui vado a inserire l'indirizzo IP pubblico dell'ufficio che io voglio raggiungere. Quindi in questo caso è 172.16.30.1, che è l'indirizzo che è su questa interfaccia. Quindi 172.16.30.1. Profilo, Ufficio di destra. Exchange Mode, Main è IK versione 1. Io scelgo IK versione 2 perché è più sicura e poi ha meno overhead su TCP. Comunque questo è un altro discorso. Applica e OK. A questo punto vado su Identities. Clicco più. Qui ho Ufficio di destra. Qui l'autenticazione, i metodi di autenticazione. Come vedi ce ne è diversi, il certificato, Radius, OAP, il token RSI, eccetera. Su PreShare Key vado ad inserire la password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ovviamente questo è solo per questo video. La password dovrebbe essere almeno 20-30 caratteri. Su internet trovi i password generator che ti generano delle password. Basta semplicemente con un copy e un colla e risolvi il problema. Applica e OK. Poi andiamo su Proposal. Proposals. Più. Qui lo chiamo Ufficio di destra. Tolgo SCA 1. Lascio SCA 256. Tolgo AS 192 e 128 e lascio 256. Applica e OK. Infine Policy. Clicco su più. Qui seleziono uno o più, dipende quante VPN abbiamo. Chiaramente qui ce n'è una sola. Quindi è per l'ufficio di destra. Seleziono qui. Vado ad inserire la rete che io voglio condividere con l'ufficio di destra. Quindi 192.168.10.0.24 E la voglio condividere con la rete 192.168.20.0.24 E premo Applica. E infine OK. Se io vado su Active Peers, vedi, non c'è niente. Adesso facciamo la stessa cosa per il router di destra. Nel router di sinistra invece manca un passaggio che ora ti faccio vedere. IP, IPsec. Andiamo su Profilo, quindi Profile, Add. Qui lo chiamiamo Ufficio di sinistra. Seleziono SCA 256. Tolgo 128. Tolgo 3DES. Seleziono AES 256. Tolgo anche Mod P1024 e lascio solo il 2048. E premo Applica. E' OK. Poi Peer, Add, Ufficio di sinistra. Qui, anche come fatto prima, vado ad inserire l'indirizzo IP pubblico del mio sinistra. Profile, Ufficio di sinistra. Exchange Mode Icad Version 2. Ovviamente entrambi i lati, sia destra e sinistra, devono essere uguali, altrimenti la VPN non funzionerà. Premo Applica. OK. Poi vado su Identities. Premo più. Ufficio di sinistra. Preshare Key. Come prima. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Applica. E' OK. Poi, Proposo. Premo su Più. Qui ci metto Ufficio di sinistra. Tolgo SCA1. Seleziono SCA256. Tolgo 192. Questo 128. E lascio solo 256. Premo Applica. E' OK. E infine vado su Policy. Seleziono il Peer. Ufficio di sinistra. Source Address. La rete che io voglio condividere con l'ufficio di destra. Quindi è 10.0.24. Destination 192.168. 20.0.24. Seleziono Tunnel qui. Action. Qui, Proposo. Ufficio di sinistra. E premo Applica. OK. Vado su Active Peer. E vedi che ce n'ho già uno. Establish. Ora, sul router di sinistra. Che è quello che abbiamo fatto prima. Io mi sono dimenticato questo passaggio dentro a Policy. Su Action. Proposo. Ufficio di destra. Applica. E' OK. Sia sul router di sinistra che su quello di destra. Bisogna creare un NAT traversal. NAT 0. Quindi vado su IP. Fargo. NAT. Source NAT. Source Address. Questo è il router di sinistra. Quindi il 192.168.10.0.24. Destination 192.168.20.0.24. Action. Accetta. Quindi fai passare tutto. E premo Applica. E' OK. Questa rules, questa regola, la devi mettere prima del NAT generale. Quindi deve essere in cima. Quindi deve essere in cima. Stessa cosa facciamo per il router di destra. Quindi IP. Firewall. NAT. Source Address. 192.168.20.0. 192.168.10.0.24. Applica. Ok. E questa deve essere messa per prima. Ok. A questo punto io ti proporrei di fare un piccolo test. Questo è il computer di destra. Questo è il computer di sinistra. Quindi adesso io vado a provare a fare un ping da questo computer verso l'altro computer. Che è questo di RCP. E guardiamo se funziona. Ok. Come in questo caso che non funziona, colgo l'occasione per fare con te un piccolo troubleshooting. Cioè perché non funziona? Perché non riesco a fare un ping? Allora su un micro tick. Prendiamo per esempio il micro tick di sinistra. Vado sul log. E qui dice no policy found generate. Quindi c'è un problema sulla policy. Vado su policy. Su general 192. Questa sembrerebbe perfetta. Ufficio proposo. E questo va bene. Adesso controlliamo il router di destra. Chiudiamo questo. Andiamo qui su policy. Ufficio di sinistra. Eccolo qui l'errore. L'errore è questo. L'ufficio di destra ha la rete 20. E l'ufficio di sinistra la rete 10. Applica. E ok. E infatti, come vedi, riesco a pingare il router, il, scusatemi, il computer di sinistra. Da qui riesco a pingare questa rete e ovviamente anche dal computer di sinistra riesco a pingare il computer di destra. In questo modo abbiamo condiviso le nostre reti con un tunnel IPsec site to site. Poi, se vuoi, potrai implementare le varie policy nel firewall qui. Chiudi questa. Firewall. Dove tu creerai le tue regole per far passare determinato traffico oppure bloccare un determinato traffico.